Sicuramente contaminare fa bene perché ci dà la possibilità di capire quanto è complessa la realtà. Non esiste una materia che sta in una bolla di bambagia. In realtà tutto è molto interconnesso e lo è tanto più l'economia che rappresenta la realtà. Quindi quello che vogliamo passare al nostro visitatore è l'idea che l'economia parla con tantissimi campi che sono diversi da quelli che normalmente noi pensiamo. La letteratura, il cinema, la musica, la colonna sonora del museo è fatta di canzoni che parlano di denaro e non è solo quella di Mahmood, ma ce ne sono tantissime che parlano di denaro. E poi abbiamo pensato all'arte. Non è una novità. Ci sono state già nel passato diverse mostre di musei di arte che collegavano l'economia con l'arte e la pittura. Penso al denaro e la bellezza di 12 anni fa a Firenze. Ce ne sono state diverse. Però tutte avevano un approccio molto più statico e comunque la collegavano in senso astratto. Noi la colleghiamo in maniera molto concreta perché sono 10 quadri. Tutti trattano un tema specifico relativo all'economia personale, il consumo, l'investimento, il risparmio. Quindi questi quadri in qualche maniera parlano al visitatore e lo fanno in maniera anche tecnologicamente sorprendente perché si tratta di una sala virtuale, di due postazioni di virtual reality che considerano un viaggio immersivo del visitatore nel tempo, nello spazio, negli stili pittorici e contemporaneamente il visitatore si troverà di fronte a dei quadri che si animano e parlano di un concetto economico che è collegato all'educazione finanziaria.